Ciao ragazzi io sono AIRNAUDEO6 e bentornati in questo nuovo video qui sul mio canale sono il mio VATACI4 davvero di Zatta e di Zatta è un po' di ciò che mi ha fatto da arrivare qui sopra qua il tetto da lì si, da lì vado no? una cosa che ho usato anche con questo lettere è un po' di PIN e la macchua è e la materia quindi, così e il controllo una cosa è un buon ricostruzio non sarà scuola una volta ok, se mettete un po' serio non la metto facciate un po' legno ok e il gioco è fatto è molto facile e salite e il gioco è il mio consiglio e il gioco è il mio consiglio è come impiare i vostri amici in base in base e voglio inserire i vostri amici in base e il gioco è il gioco e e il gioco è il gioco il gioco e il gioco è il mio consiglio e il gioco è il mio consiglio e 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